Oh vabbè, meglio così guarda, non so mai se è connessione mia o connessione tua Beh, anche la mia connessione fa brutti scherzi, quindi potrebbe essere anche la mia Come ho detto, fa capriccio ultimamente Che coglioni però Vabbè, in tutto ciò tagliamo in girl un cazzo, eh Tagliamo in girl Mr. Lorenzo Vabbè, è volata Vabbè, Lorenzo te lo manda per dentro Eh, un send per Raid C'è tu che dici che va bene Raid Eh, va bene però, uno, capito, quello è il problema Che l'amico tuo aveva detto che ne servivano almeno un paio Non lo so Quello è il problema Potessi, cioè Apparenti, se Gaia facesse un atto di bontà Di generosità Ma veramente, ma che cazzo ci vuole A mandare un cazzo di livello di merda Per cazzo di pulsante, eh Che ne è che è Ok, intanto ho finito questo, meno male Ehm, come è l'usista Ah, merda 13.600 Ma una streametta così per i dafai Sì, dai Ehm 144 atti Ma guarda Tricoinato Davvero? Ma da dove? Ma come ne accorgo che deve farci i livelli di tricoin Per ride, se no Ah Abbiamo Bene Ma Grazie a tutti.